E poi vi lascio. Eccoci qua con il mitico codice fiscale che ci racconta al WordCamp perché le piace Wordpress. Perché mi piace Wordpress? È una bella domanda. Perché è semplice, perché è intuitiva, perché è scalabile, perché è flessibile, perché mi sono appassionata con il blog. Il blog l'ho sempre tenuto soprattutto per fare esperimenti con Wordpress. E ovviamente per lavoro uso PHP per fare delle applicazioni. Mi sono appassionata, ho iniziato a scoprire tante cose, soprattutto l'ultima versione l'ho calza molto. E quindi adesso sei diventata una professione di Wordpress. Sei in grado di sviluppare temi, plug-in, modifiche e tutto? Sì, assolutamente sì. Sto cercando disperatamente in quest'ultimo periodo di convincere la mia azienda a passare a Wordpress perché comunque lo sito mi permette di utilizzarlo e anche in modo molto più produttivo di quello del CMS che stanno utilizzando. Tra l'altro il CMS proprietario, Wordpress non lo è. È molto più semplice inserire appunto contenuti rispetto a, lo dico, si chiama Portal Framework. Non credo che sia molto conosciuto. Anche perché l'azienda che lo sviluppa è spagnola. e anche per loro sarebbe molto molto utile. Chiaramente convincere poi i propri clienti o comunque il proprio datore di lavoro non è così semplice. Tenterò la strada del provatelo così vedrete come funziona, quanto è semplice e quanto ve lo posso personalizzare anche all'estremo. Grazie mille, Serena. Prego.